Ieri è stata la giornata internazionale contro la violenza sulle donne e Città Metropolitana oggi ha organizzato un convegno a Venaria dove appunto si parlerà di violenza sulle donne. Sono molto contenta di essere riuscita a organizzare soprattutto con una scolaresca, insomma c'è una scuola media e una scuola superiore presente tra il pubblico e quindi cercheremo di far capire loro cosa vuol dire violenza sulle donne.